Si stanno verificando sempre più spesso a causa della crisi che tutti ben conosciamo, anche in questo caso su iniziativa e quindi senza bisogno di segnalazioni particolari nelle operazioni di controllo del territorio, il nucleo operativo speciale di Arezzo è intervenuto in questo sito industriale abbandonato dove sono state trovate una quantità veramente consistente di rifiuti e in questo caso anche rifiuti che da un punto di vista ambientale possono creare del rischio perché sono stati rinvenuti numerose cisterne con materiali che presumibilmente sono acidi che servivano per le lavorazioni, c'è materiale in cemento amianto, residui pulverulenti di lavorazioni sempre della verniciatura delle gabine di addoccia che venivano realizzate in questi ambienti e purtroppo ancora una volta abbandonati tal quali. Sicuramente bisogna prestare attenzione a questa situazione, è vicino al casello dell'autostrada, c'è vicino la discoteca e una piscina e quindi sicuramente ci deve essere un'attenzione da parte di tutti. Noi siamo impegnati anche nella vigilanza di questo sito perché eventuali accessi potrebbero veramente essere pericolosi.